Per il Partito Democratico la sanità è allo sbando. Raccogliendo le rimostranze dei pazienti che attendono mesi, a volte più di un anno, per ricevere una prestazione diagnostica o una visita specialistica, il PD ha messo di fronte alle sue responsabilità la Regione Marche, il cui piano sanitario non sarebbe riuscito né a vincere la mobilità passiva né ad abbreviare i tempi di attesa, costringendo in alcuni casi i cittadini a non curarsi. Una testimonianza alquanto significativa è stata fornita dal dirigente del reparto di senologia dell'ospedale Santa Croce, Cesare Magalotti, che invece di restare inerte ha deciso di proporsi candidato. Abbiamo perso la voglia di venire a lavorare perché non per i pazienti, cioè il paziente ha ancora una grossa soddisfazione, noi abbiamo una mobilità attiva da tutta l'Italia per cui sono molto contento, però proprio l'ambiente, lo stato tutti i giorni, voi pensate che noi passiamo 12-13 ore in ospedale. La situazione che si è venuta a creare è una situazione di disagio e malcontento. Una delle carenze più gravi è quella del personale, vi mancano gli anestesisti e questo ha causato anche un problema per l'operatività delle camere operatori. La sanità non la fanno le strutture, non la fanno i muri, la fanno i medici, gli infermieri, per cui le persone, gli uomini e le donne. Siamo in una situazione molto particolare, è vero che è una situazione particolare nazionale, ma non copriamoci dietro questa cosa qua. Cioè il nostro ospedale una volta era attrattivo anche per i medici e gli infermieri, sta diventando invece il contrario, perché noi abbiamo perso 6 anestesisti in un mese, la ginecologia ha perso 9 ginecologi in un anno. Cioè sono tutte persone formate, preparate, che non è che vengono sostituiti in un attimo. È fondamentale fermarsi un attimo e cercare di risolvere questo grosso, grosso problema. Un altro grave problema è quello della mancanza dell'atto aziendale. Beh l'atto aziendale è la dimostrazione dell'azienda. Io penso che, come faccio a fare io una carta dei servizi se non ho neanche l'atto aziendale? Non so neanche quali sono i servizi che sono presenti. Qui abbiamo un atto aziendale forse vecchissimo, non sappiamo neanche quello che succederà. È un anno e mezzo che esiste l'AST peso rubino, ma senza un atto aziendale. Per cui vedo degli adesivi e delle persone che fanno tutti i giorni il loro lavoro per curare i pazienti. Questo lo garantisco. Però lo fanno con un grosso disagio. Per il candidato del centro-sinistra Cristian Fanesi, che ha sfidato Ser Filippi a rendere noto l'atto aziendale, la testimonianza di Magalotti dimostra come la sanità fanese sia sotto attacco. È chiaro che il prossimo sindaco di Fanno difenda la sanità pubblica e l'ospedale Santa Croce, perché dopo l'azzeramento dell'azienda ospedaliera Marche Nord, l'ospedale di Fanno rischia di essere molto meno attrattivo che in passato. Bisogna difendere gli operatori ed opporci allo smembramento progressivo, a favore anche di territori a noi vicino, dell'entroterra come Pergola, della sanità fanese. Questo è un impegno che ci prendiamo, difesa della sanità pubblica, difesa del Santa Croce a Fanno. Infine, il sunto politico del segretario Renato Claudio Minardi. C'è un caos totale all'interno del sistema sanitario di questo territorio. L'obiettivo è quello di garantire una sanità pubblica, fare in modo che si abbattano veramente le liste d'attesa e che il Santa Croce possa continuare ad essere un punto di riferimento. Si è abbandonato il progetto di fare un ospedale importante per fare un mezzo ospedale. Pesaro avrà un ospedale più piccolo, ma a Fanno non si dice quale sarà la prospettiva e quale sarà il futuro. Vogliamo garantire che il Santa Croce possa continuare a vivere, ma vogliamo anche che Ser Filippi e tutto il centrodestra dicano con l'atto aziendale quali saranno i posti letto, quali specialistiche e con quale personale. Questo i fanesi hanno diritto di saperlo. Grazie.